Musica Potenta, paola ragazzi, qua l'Axlogio, benvenuti ad oggi, sono da sole e voi sapete già cosa sto per fare Perché come potete ben vedere, o meglio, come vedrete tra poco, la EA ha fatto uscire nuovamente i pack da 100.000 crediti Io avendo trovato l'Eno, che all'incirca ne costa 90 se non sbaglio, ho detto, eh no, eh no, eh no Dobbiamo provare ad aprirne un altro perché vogliamo jackpot, vogliamo almeno un giocatore che ci faccia tornare 400-500.000 crediti Quindi ragazzi, eccoci qua, io non ho molte cose da dire, allora vabbè, ovviamente se volete comprare Katie vi ricordo di passare da FIBA Con stessi il link lo troverete in descrizione, poi vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi avete dato nell'ultimo video Che è appunto quello in cui ho trovato l'Eno, perché? Perché abbia raggiunto i 6.000 mi piace in quel video Ma c'è anche a dire una cosa, questo video io non so quando lo caricherò, quindi posso caricarlo il giorno dopo averlo trovato l'Eno Tipo di Season, quindi oggi, ma come anche addirittura settimana prossima, perché magari me lo tengo come video di riserva Questo è tutto da vedere e poi se vi state chiedendo perché non c'è la facecam, perché come ho già detto, evidentemente ciò che mi portava sfortuna cos'era Era la facecam e quindi l'ho tolta in poche parole, ovviamente la toglierò solo nei pacoblin Quindi andiamo a scherzare, sì, io poi cosa farò? Chiuderò gli occhi e abbrasserò lo sguardo E speriamo di trovare un bel giocatore Chiudiamogli occhi Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ragazzi alzo, eh 3, 2, 1 Eh! Addirittura qua non c'è nessuno che supera l'82, ma che bello 84 che costa Ragazzi di violenza Ah, 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 ah Ah mio Dio Ah mio Dio Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Ah mio Dio Ah mio Dio Ah mio Dio Un altro Non ci credo Non ci credo Sì 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 E andiamo 2 su 2 E dovrebbe costare già un po' di più Ma mi inviamolo nel club Oh mio Dio ragazzi Oh mio Dio E vai Oh questo accanto è buonissimo E abbiamo trovato anche Alaba Team of the season Dalla madonna E ho perso già tutta la voce Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Ragazzi voglio che rirraggiungiamo I 6.000 mi piace per questa nuova reazione E detto questo Io vi saluto e vi dico potente A farla sento al prossimo video Voila